3 prodotti wow di Astra. Non so se siete pronti a questo video scoperto 3 prodotti fantastici a prezzi super accessibili. Iniziamo dal fondotinta, sottilissimo sul viso, va a uniformare il colore della pelle senza appesantire. Si sfuma benissimo, sembra quasi che la vostra pelle sia più bella senza averci applicato nulla sopra. Si può vedere quanto io abbia amato e utilizzato questa matita dal fatto che è molto molto consumata. È una sorta di ibrido tra un rossetto e una matita perché è morbidissima e super confortevole ma allo stesso tempo precisa nell'applicazione come una matita, veramente fantastica. Questo illuminante fa parte della collezione estiva e vi dà un effetto di pelle baciata dal sole. Ha un sottotono odorato bellissimo, molto molto luminoso, stratificabile, bello utilizzato sia sul viso che sul corpo. Quali sono i vostri prodotti preferiti di Astra? Scrivetemelo nei commenti.